Sarà il principio alla base della semplicità del calcio, ma se squadra che vince non si cambia, in effetti non sembrano esserci motivazioni in casa San Giovannese, per cui Mister Ruotolo dovrebbe ad oggi variare qualcosa dal punto di vista tecnico, un tanto meno tattico, della squadra di Pian Castagnaio in vista della gara interna contro la Massese. Le tre sberle rifilate a chi fino a quel momento era prima in classifica si fanno sentire in positivo nel morale e quindi anche l'undici iniziale non dovrebbe, infortuni dell'ultimo minuto a parte, subire variazioni dato che è azzerata anche la casella degli indisponibili per squalifica. Nocentini, Castaldo e Bini in difesa davanti a Berti confermato dunque anche per cimentare un'intesa in crescita ma non ancora totalmente acquisita, con Lischi e Guidotti a coprire le proprie corsie di competenza. A centrocampo buono regista con Mugelli ad Interdire e Vezzi a cercare gli inserimenti alle spalle di Regoli, decisamente ritrovato ed invernizi. Da notare che proprio stamattina è arrivato anche l'accoppiamento per la Coppa Italia. Gli azzurri giocheranno in casa al 28 ottobre con la Forte e Juventus, con orario da stabilire. In caso di passaggio del turno, se si pareggia il novantesimo ci saranno i calci di rigore, appare probabile un confronto con la vincente tra Scandicci e Jolly Montemurlo.